Sì, la gatta abbastanza, però secondo me qualche mosticato è di una macchina, perché c'è la bocca a me. E la gatta non riesce a mattarla, perché... se lo è non riesce a mattarla. Il cane? No, ok. Il cane è di un bar dietro, ma non sta. Sì, la... Eh, però io non so mica come è di impeccarla proprio sulla testa. Un battone lungo, una lontanata. La zappata. Dai, come una scuola. Ho quel musulmio. No, non c'è, è troppo delicato. Che fai adesso il filmino? Lo mettete su YouTube? Eh, a me si stacca che sono torce a scuola. Eh, trova a lasciarlo libero, vediamo se ci risolverò. No, va a scuola a destra. Vado così? Sì.